Partiamo dal Corriere della Sera che parla del nuovo piano per i vaccini nel titolo di apertura a tempi più lunghi per le seconde dosi, svolta di Biden, intanto brevetti sì alla revoca. A settembre tutti in classe invece l'apertura di Repubblica, sono le parole del Ministro dell'Istruzione Bianchi in un'intervista pubblicata da Repubblica, anche dalla Prima di Repubblica la notizia dell'udienza sulle estradizioni i terroristi di Parigi, non dateci all'Italia. Il sole 24 ore contro l'evasione, pronte 161 banche dati ai raggi X casa, auto, bonus e imposte, mentre sulla prima pagina della stampa in apertura si parla del possibile slittamento del coprifuoco a mezzanotte. Andiamo a vedere anche il messaggero, si parla invece in apertura qui della campagna di vaccinazione, dosi per tutti anche in montagna, siero per ogni fascia di età nelle piccole località di vacanza, isola Alpe e Appennini, mentre il coprifuoco ritorna come tema nell'apertura del quotidiano nazionale il giorno virus in ritirata cambia il coprifuoco. Anche qui sulla prima pagina del giorno la notizia delle udienze per i terroristi estradati, rieccoli è il titolo scelto dal quotidiano nazionale. Faida tra giudici, il giornale torna sulla questione, il caos CSM dedica la sua apertura di oggi alla notizia, mentre il fatto quotidiano è critico nei confronti della gestione del virus da parte del governo. I 500 mila vaccini sono durati due giorni, fa notare il fatto quotidiano la verità, invece torna anche la verità sulla questione magistratura, il tesoretto estero di Amara, faccendiere di loggia Ungheria, mentre per Libero l'apertura è sulle strade piene di stracci, le mascherine inquinano come la plastica, fa notare Libero. Sulla prima pagina di Avvenire invece troviamo la notizia della svolta sui vaccini da parte dell'amministrazione Biden, gli USA appoggeranno la rinuncia ai brevetti. Per concludere andiamo sulla prima pagina della Gazzetta dove si continua a parlare del ritorno di Murigno in Italia. Elettro Mu è il titolo scelto dalla Gazzetta.